Buonasera dal TG Norba Sport. In campo la Serie B per la diciannovesima giornata, l'ultima prima della sosta natalizia. Il Bari espugna il Braglia di Modena, una vittoria però macchiata dalla morte di un tifoso del Bari, Gianni Conforte. Ne parleremo tra poco, intanto vediamo i numeri di questa giornata. Ancona Triestina 2 a 1, Brescia Grosseto 1 a 0 giocata ieri, Empoli Mantova 1 a 1, Frosinone Vicenza rinviata domani per la morte del pare del presidente del Frosinone Stipe, Livorno Sassuolo 3 a 2, Modena Bari 0 a 2, Parma Cittadella 1 a 0 giocata ieri, Piacenza Pisa 1 a 0, Rimini Albino Leffe 1 a 1, Lascoli vince a Salerno per 2 a 1, Treviso Avelino 2 a 1. E in classifica ci sono 5 capolista, Brescia Empoli, Livorno Parma Sassuolo a quota 32, tiene il passo il Bari che rientra in zona playoff a quota 31, via via poi tutte le altre. Ricordiamo che la Salernitana è la prossima avversaria del Bari. Una vittoria e il lutto al braccio per onorare la memoria di Gianni Conforte, tifoso del Bari morto stamani in un incidente stradale, il 31enne di Noci si stava ricando proprio a Modena per seguire la sua squadra del cuore. Ci piace pensare che la partita Gianni l'ha comunque vista e che sorride da lassù guardando la classifica, la cronaca della gara nel servizio di Alessio Casulli. Con la testa al Modena, con il cuore, i 5 sfortunati tifosi coinvolti in un incidente stradale. Erano partiti da Noci per seguire la loro squadra, ma in Emilia non ci sono mai arrivati. Giovanni Conforte, 31 anni, ha perso la vita, i suoi quattro amici sono in ospedale, gravi ma non in pericolo di vita. Doveroso il lutto al braccio e il minuto di raccoglimento, il Bari ha giocato e vinto anche per loro. Gara ben impostata, fin dalle prime battute, il Modena cerca di fare gioco e Bari controlla senza affanni. Si punta sulle ripartenze, micidiali, grazie alla velocità di Barreto e Caputo. I due si trovano ad occhi chiusi, come al sedicesimo. Il brasiliano serve in profondità Caputo, Cicciogol anticipa Frezzolini ed ottiene il rigore. Dal dischetto Barrete mette a segno il suo ottavo gol in bianco-rosso. I pericoli per la squadra di Conte arrivano soprattutto da Biabiani. Il francesino è sicuramente l'insidia numero uno, pur ostinandosi troppo spesso nella soluzione personale. La ripresa è un botta e risposta continuo. In avvio il Modena prova di impensierire Gillet direttamente da calcio di punizione. I tentativi di Catellani sono poca cosa. Al contrario il Bari potrebbe raddoppiare in almeno un paio di occasioni, ma prima Salvatore Masiello e poi Caputo non le sfruttano a dovere. Su capovolgimento di fronte è ancora Biabiani a creare scompiglio nell'area di rigore barese. Al minuto numero 37 arriva finalmente il secondo gol. Azione da manuale tutta in rapidità sulla sedonda Barreto Caputo, sesta rete per il giovane attaccante di Altamura. E il secondo successo in trasferta per la squadra di Conte a tre mesi di distanza dall'1-0 di Ascoli. La speranza era quella di chiudere nel migliore dei modi il 2008, missione compiuta dunque. Adesso si attende qualche bel colpo di mercato come regalo di Natale sotto l'albero bianco-rosso. E il nostro Michele Salomone è avvicinato a Antonio Conte subito dopo la gara. Ascoltiamo. Purtroppo quando ci sono queste disgrazie tutto passa in secondo piano. È inevitabile che poi comunque si scende in campo, si deve lottare. E penso anche che il ragazzo che purtroppo è scomparso abbia tifato per noi da lassù e sia stato contento comunque della prestazione offerta. Perché sicuramente è una prestazione che dedichiamo a lui. Forse la più bella del Bari. Ma è una prestazione sicuramente importante. In un momento sicuramente, tra virgolette, non facilissimo. Abbiamo dato continuità di risultato alla partita di Piacenza. Siamo venuti qui a Modena, secondo me abbiamo dettato legge sotto tutti i punti di vista tecnico, tattico, fisico. Non c'è stata partita. Sembrava una missione precisa. Sì. Kamata non finisce di stupire. Anche a destra riesce a mettere in difficoltà l'avversario. Sì, abbiamo studiato un pochettino questa situazione perché ormai Kamata... Forse volevi far sentire Salvatore Masello più a suo agio sulla sinistra. Sì, però Kamata ormai ce lo aspettano. Quindi cercano di mettere una marcatura apposta, un raddoppio continuo. Io penso che dare un'alternativa, un'alternanza di fasce e due esterni secondo me scombino un po' i piani di chi ci affronta. Con antidolorifico senza, non lo so, ma anche Donda credo abbia giocato una buona partita. Assolutamente. Donda ha fatto molto bene, ma secondo me in questo periodo forse Donda è meglio quando gioca fuori casa perché a volte non sente la pressione. a Bari mi è dispiaciuto molto il fatto che comunque sia stato fischiato in quella maniera.